ciao a tutti amici amiche benvenuti o bentornati su questo canale oggi parliamo dei metallica non farò una video recensione farò un video così un video molto informale dicendo quello che io penso del loro album probabilmente più importante non più importante da un punto di vista stilistico perché credo che metallica dal punto di vista stilistico abbiano tu abbiano detto tutto quello che dovevano dire ecco i primi quattro album ma ecco il quinto album il famoso e soprannominato black album che metallica probabilmente riscossero quel successo su scala mondiale e che avvicinò il loro nome a dinosauri che spopolavano nelle classifiche del periodo come michael jackson madonna bon jovi o aerosmith e lo fecero appunto proprio con il quinto album del 1991 tutto nero praticamente l'album eponimo metallica allora su questo album ancora si disquisisce molto come si disquisisce molto proprio sui metallica stessi perché sono una band storica perché sono una band seminale sono una band che forse ha inventato il trash metal o forse l'ha inventato assieme ad altri molto più probabilmente basti pensare che già nel 1983 quando usciva kill emoll usciva un altro album secondo me seminale per il trash metal che nessuno cita mai a parte citare i soliti exodus di bonded by blood usciva praticamente heavy metal maniac degli exciter voglio dire secondo me le coordinate dello speed trash metal non sono state soli metallica a dettarle ma in un certo senso kill emoll ha gettato quelle che sono state poi gran parte delle coordinate seguite da tante band che si sono cimentate nel trash metal e che sono anche diventate famose quindi io darei la paternità del trash metal fondamentalmente è metallica barra exciter barra exodus di certo non solo è metallica ma sicuramente metallica hanno loro buon 33,33 per cento di responsabilità nell'invenzione e nel definire quello che è stato nel periodo eslos e sarà poi il trash metal ma parliamo del black album vi dico una cosa ragazzi io quando acquistai il black album mi trovavo in vacanza nella casa di famiglia che avevamo in toscana dove ho passato per tantissimi anni almeno tre o quattro mesi all'anno di vacanza quindi mi posso reputare quasi per metà toscano perché un sacco di parenti e di amici che ancora che ancora ho lasciato appunto in quel luogo in provincia di Arezzo era l'agosto del 1991 quindi io essendo del 77 doveva ancora compiere 14 anni ma essendo io un metallario in erba avevo avevo già sul groppone tre o quattro anni di metal e soprattutto avevo sul gruppone almeno due album dei metallica praticamente quando iniziai ad ascoltare metal era all'incirca l'86 master of puppets uscì praticamente lo stesso anno che io iniziai col metal e poi vissi praticamente in simbiosi lasciatemi questo termine l'uscita di injustice for all altro capolavoro dei metallica quindi quando arrivò il black album diciamo che mi ricollego al discorso di prima io ero in vacanza e andai a comprare in toscana questo questo famoso nuovo album dei metalli però sto cercando si è nascosto forse perché non vuole beccarsi gli insulti eccolo qua io andai in un negozio lì in toscana e comprai il black album qua si vede tutto nero in effetti anche all'epoca certamente qua la custodia rovinata e quella del periodo ma fondamentalmente l'album fu questo io già non capì molto la scelta di questa copertina che si vede non si vede un cazzo praticamente e dopo di che quando misi il cd nel lettore non capivo esattamente cosa stessi ascoltando la delusione fu coccente perché l'inizio dato da enter sandman era un inizio molto molto debole se calcoliamo che metallica avevano aperto il loro album sempre con delle canzoni pazzesche che pensiamo a id lights nell'83 pensiamo a fight fire with fire nell'84 paurosa mostruosa pensiamo alla ancora più mostruosa se vogliamo batteri dell'86 e se pensiamo alla ancora più elaborata al tempo stesso brutale blackened del 1988 quindi un album che si apre con enter sandman è un album che fondamentalmente ti lascia tiepido nell'ascolto ecco enter sandman fu un po un pugno nello stomaco il pugno nello stomaco che metallica mi ricordo bene e ancora ne conservo le riviste ci avevano promesso che avremmo provato quando il disco sarebbe uscito questo famoso album nero loro promettevano di aver realizzato un disco molto pesante molto in your face e che ci avrebbe colpito duro allo stomaco queste le dichiarazioni che io ricordo molto molto bene da parte dei membri di metallica da parte di uric piuttosto che di etfi la realtà fu ben diversa noi ci trovammo e questo ok io lo provai a 13 14 anni ma la mia opinione dopo 32 anni non è assolutamente cambiata ci troviamo di fronte ad un album secondo me adesso potremmo definire buono per ciò che il panorama musicale ci ha offerto negli ultimi 30 anni e soprattutto per quello che metallica ci hanno offerto negli ultimi 30 anni ma il black album secondo me rimane un disco spompo ci sono delle canzoni che sono buone del black album ma le canzoni buone del black album secondo me non sono buone quanto quelle che c'erano nei dischi precedenti il black album prova a fare un esempio tra le canzoni del black album che io reputo meritevoli di di stare nella discografia dei metallica ci sono selva true all year than two the unforgiven the struggle within e true the never e poco poco altro queste canzoni in un certo senso conservavano qualcosina dei vecchi metallica seppur con un drumming molto semplificato da parte di uric che all'epoca voleva per forza replicare probabilmente da quello che ricordo io phil rude degli ecdc e quello stile molto scarno ma che appunto era data ad una band di rock duro come gli ecdc e non di certo ad una band trash metal ma le sensazioni che mi diede furono veramente di delusione totale le anche la produzione che probabilmente è la più equilibrata dei metallica dove finalmente newsted ebbe giustizia dopo diciamo l'azzeramento quasi totale del basso su justice for all anche se la produzione dicevo risulta molto molto professionale molto radiofonica questo non mettiamolo mai in secondo piano ecco le chitarre a mio modo di vedere rispetto ai dischi precedenti dove letteralmente ringhiavano soprattutto se prendiamo ad esempio master of puppets e in justice for all a mio avviso in justice for all a negli album de metallica il suono più pauroso di chitarra e più cattivo e anche più oscuro le chitarre erano smorzate non dico che non fossero potenti o che non godessero di un buon sound e chitarre come volume sono leggermente più basse rispetto ai dischi precedenti soprattutto rispetto ai due dischi precedenti e la voce è decisamente più melodica di etfield è decisamente a parte essere più melodica lui intona delle delle strofe dei ritornelli molto più melodici questo per dire che il black album è un prodotto costruito a tavolino per sfondare nelle classifiche per la prima volta vediamo la presenza di due ballad o semi ballad dal posto di una ma sia the unforgiven e soprattutto nothing else matter non sono delle semi ballad dove poi si scatena l'inferno come possono essere welcome home sanitarium o ad esempio one due canzoni secondo me alle quali andrebbe fatto un monumento solo alle canzoni non dico ai dischi che le contengono ma appunto the unforgiven and nothing else matter sono due buone canzoni dove però l'alone della commercialità da acchiappare a tutti i costi emerge in tutto e per tutto quindi il black album all'epoca mi fece questo effetto e adesso mi fa ancora questo effetto secondo me è un disco sufficiente barra buono ad essere proprio diciamo magnanimi con 12 brani di cui almeno cinque o sei trascurabili anche ci sono delle canzoni che da tanti sono amate come wherever I may roam piuttosto the god the failed piuttosto che my friend of misery secondo me sono canzoni assolutamente rilevanti nella carriera dei metallica sempre paragonandole a tutto a quello che metallica avevano fatto fino a lì e non sto dicendo che queste canzoni siano brutte io sto ragionando nei termini della qualità delle canzoni dei metallica fino al 1991 ecco questo per chiarirsi chiaramente le avesse fatte magari un'altra band l'avesse fatto come prima citavo bon jovi o gli aerosmith magari sarebbero state delle ottime canzoni ma nel repertorio dei metallica secondo me sono irrilevanti non vorremmo certo paragonare una my friend of misery a una fight fire with fire o a una one o a una blackened spero o una the magic incorporated il black album dopo 32 anni secondo me rimane ancora il disco più più fiacco che metallica potessero fare in quel periodo non posso dire tutta la loro carriera perché hanno fatto anche di peggio ma probabilmente il disco più smaccatamente commerciale proprio grazie a delle scelte di produzione e grazie ad un approccio della band che si rivelava per quello che era il black album è stato un prodotto costruito a tavolino da un rick etfield bob rock che è il produttore e la casa discografica per far entrare metallica nel circuito delle band da classifica hard rock e per farli staccare dalle band di culto trash metal sei metallica fino a in justice for all erano ascoltati solo dai fan degli slayer dei megadeth dei testament e via dicendo con il black album entrarono di diritto in quella diciamo schiera di band sì che proponeva qualcosa di pesante ma anche qualcosa che vendesse molto tipo scorpions e ho già citato altre band come il bon jovi e via dicendo quindi una sorta di hard rock nel caso di metallica metallizzato ma pur sempre un hard rock che sin dalla produzione prometteva di voler sfondare nelle classifiche e infatti furono molti i video i singoli che passarono all'epoca il risultato fu che metallica oltre a sfornare un disco a mio avviso molto fiacco danneggiarono molto a mio avviso il metal e il trash metal erroneamente si pensa che questi generi siano stati danneggiati dal grunge ma secondo me qua dobbiamo un po fare delle proporzioni il grunge a mio avviso non ha danneggiato proprio nulla il grunge grosso modo attingeva da generi quale il punk quali il punk l'alternative rock che all'epoca veniva definito anche indino adesso all'indie si dà un'altra connotazione punk indie e hard rock se pensiamo soprattutto al termine hard rock mi viene in mente di associarlo piuttosto che a band come i nirvana magari a band come gli alice in chains piuttosto che i sound garden poi per jam che io ho sempre considerato non tanto grunge per le scarse se non nulla influenze punk e punk rock ma la tendenza a essere più hard rock e nel caso ad esempio dei degli alice in chains anche addirittura un po metal se pensiamo ad esempio a band tipo gli smashing pumpkins piuttosto che i nirvana o altre della seconda ondata grunge tipo i bush americani non vedo come queste band possano aver ucciso il metal non c'entravano proprio nulla ragazzi il metal esisteva già in una forma non metal è come dire che bon jovi faceva hard rock o gli ictc facevano hard rock e quindi essendo loro hard rock essendo più morbidi hanno ucciso levi metal che era più duro e più cattivo e la gente si era stufata di questo secondo me è un ragionamento che non sta in piedi semplicemente è in realtà poi il metal non è che fu ucciso cioè non mi pare che gli iron maiden o i judas priest morirono per colpa del grunge mi pare che album come painkiller piuttosto che fear of the dark ebbero delle buone vendite anzi forse se parliamo ad esempio di painkiller di judas priest parliamo di uno dei dischi che ha venduto di più non solo nel 90 o 91 ma anche negli anni 90 proprio che ha portato i judas priest nell'olimpo dei grandi del metal e così andarono avanti anche gli altri nomi black sabbath di purple e vi dicendo semplicemente le cose stavano cambiando ma i metallica i metallica e questo non glielo perdonerò mai furono coloro che uccisero il trash metal per quasi dieci anni è inutile che ce la stiamo a contare e dischi come countdown to extinction dei mega piuttosto che renewal dei creator piuttosto che independent mi pare si chiamasse dei sacred rike o ancora del ritual da parte dei testament ad esempio gli centrix con kin poter andare avanti con la lista ancora lungo tutte queste band cercarono di in un certo senso mettersi al passo con metallica e col sound annaquato ammorbidito e rallentato del black album ragazzi non ci sarebbero stati questi dischi alcuni anche belli per carità tipo countdown to extinction è un capolavoro di album ma non come quelli prima secondo me dei mega però le band vedendo quel successo la parte metallica le band trash metal che andavano per la maggiore in quel periodo è come se si fossero dette ma perché anche noi non possiamo farci i milioni di dollari con la nostra band e quindi ci fu questa tendenza a realizzare questi dischi a mio avviso mediocri mosci e che non avevano nulla che a vedere col trash metal la delusione quindi del black album non fu solo per il black album e per i metallica delusione che poi comunque fu amplificata dall'uscita poi nel 96 di load altro disco che sì ok carino c'è qualche canzone carina ma metà è da buttare nell'indifferenziata secondo me i metallica decretarono la fine del trash metal per tanti anni gli unici gruppi che cercarono di tenere alta la bandiera seppur con modalità modi diversi furono subito l'anno dopo nel 92 i pantera con vulgar display of power che mi fece di dimenticare fortunatamente la delusione dei metallica che subì quando ero un ragazzino quindi è rimasto tipo un trauma nella mia testa e e poi secondo me siamo stati anni e anni ad avere delle band che si si avvicinavano al trash tipo ad esempio posso citare machine ed ma con bar my eyes che realizzarono un grande album ma che definire trash propriamente non è proprio la cosa secondo me più corretta il trash secondo me si riprese nel 99 con the gathering dei testament il trash fu praticamente un genere congelato dai metallica stessi snaturato dai metallica stessi per quasi un decennio ci pensarono poi a diciamo ci pensarono in testa nel 99 quando oramai l'ondata grunge si era esaurita anche se ripeto non riesco a capire bene come il grunge potesse aver ucciso il metal cioè non riesco proprio capire sono due ambiti diversi non riesco a capirlo penso che una cosa si possa uccidere solo dall'interno i metallica che erano interni al metal e al trash metal realizzando il black album hanno ucciso tante sonorità tanti concetti tra tante attitudini che erano proprio del metal e soprattutto del trash metal non lo fecero i nirvana non penso che i nirvana con smells light in spirit o territorial pissing o rape mi potessero scalzare la potenza di una blackened o di una painkiller ecco non riesco proprio a capire questo concetto cioè se uno era metallaro è rimasto metallaro non è che di colpo le vendite del metal calarono più che altro calarono alcuni gruppi gli iron maiden calarono perché semplicemente fear of the dark e soprattutto the x factor non furono album all'altezza dei loro predecessori se lo fossero stati probabilmente sarebbero stati sulla cresta dell'onda gli unici che uccisero il trash metal e parte del metal furono metallica non mi credete scrivetemelo scrivetemelo qua sotto mi credete scrivetemelo qua sotto siete in mezzo diciamo al mio ragionamento scrivetemelo qua sotto sono pronto a confrontarmi con voi dico ancora che in metallica probabilmente si dice che si siano commercializzati dal black album in poi ma tanti dicono beh però ancora il black album non era così brutto non era così male in realtà lo scivolone cominciò da load e tanti fanno rientrare il black album tra i primi cinque capolavori allora detto inciso proprio nella pietra che secondo me il black album è tutto tranne che un capolavoro è un buon disco un disco sufficiente barra buono gli darei un sei e mezzo su dieci ecco dovessi proprio essere buono ma adesso all'epoca gli davo gli avrei dato un cinque un cinque e mezzo ha detto che il black album non è un capolavoro e capolavori sono i primi quattro e io sono uno dei pochi che reputa ed è ancora in lotta nel decretare il vero capolavoro dei metallica che c'è non riesco a capire se per me il vero capolavoro sia master of puppets che per me è il disco che dovrebbe rimanere sulla terra se tutto andasse in frantumi come simbolo del heavy metal tutto però allo stesso tempo quando ascolto in justice for all e il lavoro enorme fatto dei metallica la progressione che fecero rimango sempre lì nel dire sì master of puppets probabilmente il disco più importante dei metallica master of puppets e la bibbia del metal secondo me ma in justice for all è un disco tremendamente e ingiustamente flagellato dai continui intenditori che continuano a dire che quel disco non va tanto bene perché manca il basso ma nella maggior parte dei dischi trash del periodo il basso non era che si udisse così tanto c'era un 50 per cento i dischi dove il basso era presente quando il bassista era veramente bravo e il 50 per cento dove non si sentiva quindi chi continua a insistere con questa storia del basso di un justice for all ha ragione non si sente quasi per niente se non niente però questo non infice la qualità di un album che un capolavoro e magari sono gli stessi che poi mi repotano capolavoro il black album sbagliando in toto quindi secondo me se vogliamo dirla tutta per me i metallica sono stati metallica fino al 1988 il quinto album non rientra assolutamente nei capolavori ed è il disco più commerciale e ruffiano che i metallica abbiano mai realizzato perché a loro modo lavori come load reload saint hangar dead magnetic e via dicendo sono dischi scarsi secondo me fondamentalmente scarsi chi di più chi di meno ma dischi fatti perché si voleva farlo le influenze bluseggianti e country di load e reload non erano nelle mode del momento erano nella testa di etfield un disco come saint hangar si strizza un pochino l'occhio al new metal ma è un disco fondamentalmente almeno attitudinalmente hardcore quelli che sono venuti dopo secondo me sono dischi inutili complesso dead magnetic che ho visto da qualche parte che addirittura è stato messo vicino al capolavoro in justice for all e questa per me non è una bestemmia è una cosa inconcepibile tutti quelli venuti dopo sono dischi inutili ma dischi fatti dai metallica secondo le loro possibilità ma il black album è stato un disco diabolico concepito realizzato prodotto per le grandi masse per far sfondare metallica perché l'intento soprattutto di un rick era quello di diventare milionario quindi questo ha generato una frattura nei fan dei metallica una frattura nei fan del trash e tutta una serie di lavori diciamo ammosciati diciamo barzotti che arrivarono subito dopo il black album da parte delle maggiori trash metal band e tante altre band morirono proprio grazie al black album perché semplicemente certe sonorità trash non andavano più in voga va bene ragazzi questa è la mia opinione sul black album spero che questo video nel bene o nel male vi abbia un pochino smosso vi sia stato di vostro interesse fatemi sapere qua nei commenti cosa ne pensate per me il black album ad oggi è l'unico vero album di metallica che pur avendo una qualità delle composizioni più che sufficiente e l'album veramente da bocciare dei metallica con questo è tutto e al prossimo video ciao